Franco De Casale, direttamente dall'Argentina, oggi a Fonte, treviso alla Fondazione Opera Montegrappa. Invitato dal caro amico, grande prete, voi dovete indovinare il nome, che mi ha fatto venire qua. Abbiamo chiamato il professor De Casale per la sua esperienza, la sua competenza nell'ambito della formazione degli adolescenti per dare le direttive di un'istruzione efficace ai nostri ragazzi, soprattutto quelli con maggiore difficoltà. Il risultato di grande successo. Alberto raccoglie il testimone. Siamo contenti di collaborare con questo momento di crescita e rinascita del CSB. Per concludere dirò che voglio bene a tutti voi, che siete meravigliosi e che non c'è gente così gentile come voi. Ha imparato da Papa Francesco. Va bene.